dicono sempre che guardare i problemi da diverse prospettive aiuti a risolverli più velocemente e nel mio caso ha funzionato benissimo ribaltandomi sotto sopra in questo video voglio mostrarvi come utilizzando le verticali sulla testa che a me piacciono moltissimo io abbia ribaltato durante i miei numerosi anni di carriera situazioni che sembravano ormai spacciate e destinate a finire malissimo per me il mettermi sotto sopra è stato cruciale per vincere numerosissimi match e per quanto riguarda il mio avversario in qualunque direzione o posizione decida di vedere il suo esito e preferibilmente sarà così steso sdraiato a pancia in su non farà alcuna differenza perché una volta deciso di sfidare red scorpion non potrà più tornare indietro ma potrà solo finire al tappeto ma qua Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.